Odemar Piguet-Edouard Piguet, un orologio classico con un tocco moderno. La collezione Odemar Piguet-Edouard Piguet fu lanciata nel 1992, come tributo al cofondatore del marchio e alla sua eredità. La collezione presenta orologi dalla forma rettangolare che evocano lo stile Art Deco degli anni 20 e 30, ma con un tocco moderno. Sono caratterizzati da casse sottili ed eleganti, da quadranti raffinati e da movimenti sofisticati. La cassa è realizzata in oro bianco o rosa, 18 carati o platino. Alcuni modelli presentano diamanti o altre pietre preziose sul quadrante, disponibile in vari colori, bianco, nero, argento o blu. Alcuni esemplari hanno motivi di liosce o inserti madreperla che aggiungono texture e profondità al quadrante. Le lancette sono a forma di foglia o di spada. Per questa collezione sono disponibili diverse complicazioni, come data, cronografo, calendario perpetuo, fasi lunari o tourbillon. Alcuni modelli hanno un fondello trasparente che permette di ammirare il movimento. Eccellenza, creatività e tradizione sono l'essenza di questa collezione. La collezione ha anche un alto valore e una forte domanda nel mercato, oltre ad un forte appeal tra le celebrità e gli appassionati di orologeria di tutto il mondo. Odemar Piguet-Edouard Piguet è prodotto in edizioni limitate. Il modello Edward Piguet è un considerato un punto di riferimento in quanto riflette la maestria, l'innovazione e l'eredità di Odemar Piguet. Il valore degli orologi Odemar Piguet-Edouard Piguet dipende da vari fattori, come la condizione, la rarità, i materiali, le complicazioni e la domanda di mercato.